...che entrino i concorrenti e loro sono Paolo Mengoli e Camaleonti. Benvenuti, benvenuti, tringo a te la mano per salutare tutti gli altri. E allora amici vi ricordo la procedura per poter votare i nostri concorrenti, se volete dare la preferenza a Paolo Mengoli, dovete digitare il numero telefonico 164781, subito dopo digitare il numero 1. Il brano che ci farà ascoltare Paolo è Il Mondo, mentre invece se volete dare la vostra preferenza ai Camaleonti... No, scusa un attimo Toni, posso fare una cosa? Mi dai il permesso? Prego. Posso? Prego. E' perché non ti vediamo gli occhi. Oh, così sì. Se invece io mi permetto di giocare perché loro sono simpaticissimi, allora se volete dare la vostra preferenza ai Camaleonti, dovete fare la stessa procedura 164781 e subito dopo digitare il numero 2. Il brano che ci faranno ascoltare è L'Eternità che vinca il migliore. Inizia Paolo Mengoli. Grazie. 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 e sono niente accanto a te, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh mondo, soltanto ha detto io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e non sono niente accanto a te, il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Allora vediamo qual è il risultato, il verdetto, chi ha vinto tra Paolo Mengoli e Camaleonti, stop al televoto e via la votazione, vince Paolo Mengoli con 65 punti, l'applauso anche per i Camaleonti, la situazione per quanto riguarda questa giornata è Paolo Mengoli che troneggia con 189 punti, mentre Michele 188 segue Gianni Nazaro ma naturalmente dovrà riesibirsi, i Camaleonti, i Cugini di Campagna, lo stesso discorso si esibiranno ancora domenica prossima, e Sandro Giacobbe, Toni Dallara e Francesca Lotta, questa è la situazione per il momento. Allora grazie intanto ai nostri concorrenti, grazie davvero, allora rimanete anche qui con noi perché a questo punto è vero la vostra musica, la musica che ci avete fatto ascoltare, è una musica che come dicevo viene esportata davvero in tutte le parti del mondo. Grazie a tutti.